Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati su Crystal Cross Music Production. Questa è la parte 3 del primo capitolo del corso di audio engineering e si chiama elettronica audio. Questa parte coprirà qualche piccolo principio di elettronica e sarà una parte anche abbastanza breve rispetto alle altre perché alcuni semplici fondamenti di elettronica sono molto utili all'interno dello svolgimento di questo lavoro perché più volte vi ritroverete ad averci a che fare e saperne qualcosa non fa mai male e ancora una volta l'ho imparato a mie spese anzi vi dirò di più questa è una parte che anche io dovrei approfondire ancora di più però intanto alcune basi le possiamo dare e spero che siano utili. Per iniziare parliamo del concetto di voltaggio o di pressione elettrica. Il voltaggio è misurato in volt ed è un segnale audio sempre sotto forma di voltaggio alternato. siccome la frequenza udibile da un orecchio umano come abbiamo già visto sono 20 hertz 20 mila hertz questo range qui tratteremo delle frequenze che comprendono questo range. Il livello del segnale può variare da pochi microvolts emessi da un microfono in condizione di quiete al circa un volt emesso da una console di mixaggio ai 100 volt o più emessi da un amplificatore. L'elettricità scorre sempre dal polo negativo a quello positivo trasportata dagli elettroni. Quando un voltaggio viene applicato a un circuito o per quello che vale a qualsiasi cosa allora scorrerà una certa corrente che sarà misurata in ampere. Si può in effetti immaginare questa corrente come un flusso di elettroni. Più il flusso è forte più la corrente sarà maggiore. Alcuni materiali hanno una alta resistenza elettrica che sarà misurata in ohm e per questo sono dei buoni isolanti e quindi più bassa sarà la resistenza più alta sarà la corrente ad un certo voltaggio. E qui trovate la formuletta che vi aiuta a capire questo concetto. Quando il voltaggio è alternato si parla comunemente di impedenza che è analoga alla resistenza ma appartiene a quelle situazioni in cui una corrente e un voltaggio non sono in fase ed è anch'essa misurata in ohm. Esiste anche il concetto di reattanza come si trova in un capacitore o in un induttore. Anch'essa limita il flusso di corrente ma in assenza di componenti resistivi cioè che fanno resistenza. E l'impedenza è la combinazione di resistenza e reattanza cioè è l'insieme di componenti che da soli fungono da resistenza o di altre cose che hanno una reattanza e quindi non sono costruiti come una resistenza ma svolgono una funzione simile. Il concetto di potenza è un altro concetto importante. La potenza in termini generali è la razio di conversione dell'energia e l'energia si misura in joule. Per esempio una batteria può contenere una limitata quantità di energia al termine della quale sarà esaurita e questa batteria puoi utilizzarla a un ritmo più veloce o più lento. Connettere la batteria ad un circuito a bassa resistenza svilupperà molta più energia piuttosto che connetterla a un circuito con una alta resistenza. La potenza è misurata in watt e questa qui è la formula per calcolarla in due modi diversi. I tre principali componenti passivi di un circuito sono il resistore, il condensatore e l'induttore. Il resistore è comunemente usato per ridurre il voltaggio di un segnale o per sviluppare un voltaggio da una corrente in un induttore e questo quindi introduce una resistenza calibrata. Il condensatore invece è utilizzato per controllare la porzione di alte frequenze di un segnale riducendo le basse. Un induttore invece è in sostanza un condensatore al contrario, riduce le alte frequenze e lascia scorrere liberamente quelle basse. È importante capire che questi concetti sono tutti teorici e per tradurli nel mondo reale bisogna realizzare dei componenti fisici e questi componenti vanno realizzati con i materiali, gli strumenti e le tecniche a disposizione. Alcuni componenti sono costruiti facilmente, altri invece sono più laboriosi da costruire e quindi più costosi da acquistare alla fin fine. Sono soggetti tutti a certe limitazioni a seconda del materiale che si usa, della tecnica che si usa e di tutte le scelte possibili e in base a questo otterremo il risultato prefisso con diversi gradi di precisione e con diversi gradi di efficacia. Beh ragazzi io mi fermerei anche qui perché questa è un'infarinata generale e non voglio spingermi oltre anche perché onestamente è un campo in cui bisogna conoscere queste basi fondamentali ma ancora una volta per andare più in là ci sono persone molto più qualificate di me specialmente in questo campo, nel campo dell'elettronica in cui sono un po' carente lo ammetto e se volete approfondire la cosa rivolgetevi a persone che ne sanno e probabilmente intorno a voi anche soltanto tra i vostri amici ce ne sono svariati e questo è stato utile anche a me in passato. D'accordo ragazzi direi che finiamo qua come sempre trovate qui sotto in descrizione il link per scaricare la piccola dispensina in questo caso veramente piccola della di questa parte e per avere un riferimento scritto a quello che abbiamo appena detto e che vi può sempre essere utile quindi andate qui sotto scaricatela tenetela è scaricabile liberamente. Bene ragazzi per oggi è tutto spero che questa lezione vi sia stata utile spero che vi sia piaciuta mi raccomando iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e magari lasciate un mi piace al video se vi è piaciuto e se vi sta piacendo questo corso di audio engineering e se lo trovate utile. Noi ci vediamo alla prossima lezione